Buonasera, buonasera, mercoledì 29 aprile, ben ritrovati con Infostudio. Segnali positivi ancora tanto a livello calabrese quanto a livello nazionale ma l'emergenza coronavirus ovviamente resta e anzi oggi è di nuovo tornata ad alzarsi la sticella dello scontro tra il governo e le regioni. Il ministro Boccia ha detto impugneremo le ordinanze, le regioni possono decidere un'autonomia eventualmente anche restringere rispetto alle decisioni del governo ma impugneremo le ordinanze che vanno in senso opposto e già c'è chi come il presidente del Veneto Zaya minaccia di decretare immediatamente. Comunque vedremo lo scontro in un momento come questo politico non sarebbe auspicabile ma sappiamo che una battaglia vera e propria è iniziata anche attorno alle decisioni prese e da prendere. Per quanto riguarda i dati, stasera sono 5 in più i contagi, casi positivi in più rispetto a ieri quando ce n'era stato uno solo ed erano stati processati un numero enorme, era stato processato un numero enorme di tamponi quasi 2000. Stasera sono stati 1159, tra ieri ed oggi per essere più precisi, 5 casi di contagio in più, comunque una percentuale che resta al di sotto del mezzo caso in più, 0,4% è l'incidenza. Per quanto riguarda poi gli ospedali e i malati in terapia intensiva sono diminuiti di una unità ed a Vibo questa sera, a Vibo dove negli ultimi giorni c'era stato sempre solo un ricoverato, qualche giorno fa erano tre, poi soltanto uno, questa sera nel reparto Covid non c'è alcuna persona, alcun paziente. 5 contagi da coronavirus tra ieri ed oggi in Calabria, ma come già ieri quando era stato registrato un solo caso, la percentuale di incidenza resta bassa, lo 0,4%, perché sono stati processati 1159 tamponi. In totale nella nostra regione le persone che hanno contratto il virus sono 1102, 765 delle quali sono tuttora positive, 19 in meno di ieri. Da febbraio nei laboratori calabresi sono stati analizzati 32.961 tamponi. Al momento è sempre Catanzaro, la provincia con più ricoverati, 50, come ieri, e come ieri in due sono in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 73 persone, una in meno di ieri. A Cosenza stasera ci sono due ricoverati in meno, 25 in tutto, sempre uno in rianimazione, mentre in 306 sono in isolamento. Reggio Calabria conta 27 ricoverati, tre dei quali in terapia intensiva e 138 persone in isolamento. A Crotone, dove si registra un caso positivo in più dopo una settimana, diminuiscono i ricoveri, passati dai 13 degli ultimi giorni agli 11 di oggi, mentre in isolamento ci sono 67 persone. Nell'ospedale di Vivo Valencia da questa sera nel reparto Covid non ci sono ricoverati, mentre in provincia le persone isolate sono 56. Purtroppo oggi si conta l'86esima vittima, una donna di 81 anni di Scalacieli che era stata ricoverata nell'ospedale Covid di Rogliano. Per la provincia di Cosenza si tratta del 28esimo decesso dall'inizio dell'epidemia. Preoccupazione a Castrovillari, dove si fanno i tamponi a tutto il personale sanitario dell'ospedale, un centinaio di persone in tutto, dopo aver scoperto che un pensionato è rimasto ricoverato per una settimana, dopo aver a lungo sostato anche nel pronto soccorso, che ora si trova nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Cosenza, è risultato positivo. Per finire, stasera diminuiscono le persone in quarantena volontaria. Sono 6.299, 249 in meno di ieri. In 16.713 hanno autodichiarato al sito della Regione Calabria di essere tornati nella loro terra dalle zone in cui risiedevano per motivi di lavoro o di studio. Il dato positivo di oggi è un nuovo caso ogni 30 tamponi processati, parlo in questo caso a livello nazionale. Un livello così basso non era mai stato raggiunto dall'inizio dell'epidemia. Il dato negativo, ci sono ancora più dei 300 morti. Ieri sì, erano stati 382. Stasera sono 323, una sessantina in meno. Però io ricordo sempre che i morti del terremoto dell'Aquila dell'aprile del 2009 furono 309. Ancora oggi ne parliamo, certo, casi diversi, però bisogna anche rapportarsi alle situazioni. E adesso 323 morti, che sono sempre 14 in più rispetto a quelli che fece il terremoto all'Aquila, ci sembrano un bilancio tutto sommato più accettabile. Allora, vediamo intanto la pagina della protezione civile. I 104.657 casi positivi di questa sera rappresentano il numero delle persone che tuttora sono alle prese con il virus, mentre il numero dei guariti è salito a 71.252. Nelle ultime 24 ore sono state 2.311 le persone guarite. Ieri erano state 2.317, quindi una differenza di appena 6 persone. Con i 323 morti di oggi, i decessi sono arrivati a 27.682. Il numero totale di persone che ha contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è di 203.591. Anche in Calabria quello che è accaduto nelle case di riposo purtroppo ha trascinato il dato delle persone decedute e questa sera c'è una novità perché si conoscono i nomi delle persone indagate. Non si sapeva se si trattasse di due o di tre persone. La conferma è che sono due. Si tratta dell'amministratore di Villa Torano, Massimo Poggi, e del direttore sanitario Pansini. Epidemia colposa e omicidio colposo sono le ipotesi di reato principali addebitate ai due dirigenti della struttura Villa Torano, appunto di Torano Castello, in cui si sono verificate alcune morti sospette, in particolare quattro quelle su cui la procura di Cosenza intende fare luce. Poi da quel focolaio sono scaturiti 130 casi di contagio, tutti nei comuni della Valle del Crati, in cui risiedono alcuni del personale dipendente, alcune delle persone ad essi vicine e i parenti, chiaramente, delle vittime, delle persone, degli anziani ricoverati nella casa di riposo. A proposito di casa di riposo, c'è stata un'ispezione a campione in tutta Italia, i NAS di Catanzaro hanno effettuato un sopralluogo in una casa di riposo di Vivo Valencia, della provincia, per essere più precisi, di Vivo Valencia, e hanno riscontrato irregolarità e numerosi casi di gravi non conformità, ha rilevato non conformità relative, in particolare, alle necessarie misure di prevenzione. Il rappresentante legal della casa di riposo è stato multato. Torna in carcere il giudice Marco Petrini, l'ex presidente era sospeso della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro e della Commissione Tributaria Provinciale, che è stato nuovamente portato in carcere per la seconda volta, questa volta con l'accusa di inquinamento probatorio. Vi ricordo che era agli arresti domiciliari, Petrini era stato arrestato il 15 gennaio scorso, nell'ambito dell'operazione Genesi della Procura di Salerno, su una serie di ipotesi di corruzione che lo vedrebbero coinvolto in concorso con altre persone, persone dalle quali avrebbe accettato denaro e regali per intervenire e cambiare il corso di alcuni processi. Il giudice ha ottenuto, dopo aver collaborato con i magistrati di Salerno, gli arresti domiciliari, anzi, i suoi avvocati avevano recentemente chiesto un'ulteriore attenuazione della misura cautelare, cioè la concessione dell'obbligo di dimora. Dopo invece le ultime novità, il giudice per le indagini preliminari di Salerno ne ha disposto l'arresto. E proprio stamattina la Guardia di Finanza di Crotone ha effettuato una perquisizione in casa della moglie di Petrini, Stefania Gambardella, alla Mezzia Terme. È di corruzione l'ipotesi per cui è indagato nuovamente, nuovamente perché sono altri guai giudiziari in aggiunta a quelli che gli sono valsi l'arresto nell'ambito dell'inchiesta rinascita Scott, per l'ex sindaco di Pizzo Calabro ed ex presidente dell'Anci Calabria, Gianluca Calipo. La Guardia di Finanza di Vibo Valencia ha notificato un avviso di conclusione e indagine all'ex sindaco di Pizzo Calabro, Gianluca Calipo, e all'imprenditore vibonese Vincenzo Renda, entrambi già in carcere dopo essere stati arrestati per corruzione in concorso nell'ambito dell'operazione antindrangheta rinascita Scott e ad altre due persone. Calipo e Renda sono accusati di corruzione. L'indagine, coordinata dalla procura di Vibo Valencia, avrebbe permesso di accertare gravi e ripetuti illeciti commessi nel tempo da Calipo in concorso con l'imprenditore, che è socio ed in alcuni casi anche amministratore di importanti villaggi turistici della Costa degli Dei e di una nota impresa di trasporti. Calipo risulta indagato anche per tentata concussione ed abuso d'ufficio, reato quest'ultimo in cui avrebbero concorso Nicola Domenico Donato e Nicola Salvatore Vasta, entrambi architetti, che all'epoca dei fatti erano rispettivamente dirigente tecnico e responsabile del servizio urbanistica del comune di Pizzo Calabro. Le indagini condotte dal sostituto procuratore Concettina Iannazzo sono iniziate dopo una denuncia presentata da un imprenditore di Pizzo, stanco dei continui soprusi di Calipo che nel corso degli anni, abusando dei suoi poteri, gli avrebbe impedito il legittimo sfruttamento di una concessione demaniale relativa ad una spiaggia situata in località Savelli. L'obiettivo finale sarebbe stato quello di fare in modo che la spiaggia potesse essere gestita da Renda, che stava costruendo un resort di lusso proprio di fronte all'area demaniale e dunque avrebbe avuto la necessità di consentire un rapido accesso al mare ai clienti della sua struttura. Tuttavia, l'imprenditore che ha presentato la denuncia ha resistito alle pressioni, tra le quali va annoverata anche un'ispezione della Polizia Municipale. L'abuso d'ufficio da parte di Calipo sarebbe stato commesso per il rilascio di una concessione demaniale in favore di un altro villaggio turistico di Pizzo senza tener conto dei principi di pubblica evidenza e di imparzialità dell'azione amministrativa. In sostanza, anche in questo caso, e con metodi clientelari, Calipo avrebbe favorito alcuni imprenditori a cui era vicino, a discapito di altri, assicurandosi così anche appoggio elettorale. Inoltre, con atti compiuti direttamente o con condizionamenti, l'ex sindaco ed ex presidente regionale del Lanci era riuscita a ottenere l'assunzione di un parente in una struttura ricettiva. Calipo è stato arrestato il 20 dicembre scorso, nel corso dello maxi-operazione che la procura antimafia di Catanzaro ha portato a termine contro le cosche Mancuso di Limbadi e lo bianco Barba di Vibo Valencia, che ha poi portato anche allo scioglimento del Consiglio Comunale Nepitino per infiltrazioni mafiose. La DDA di Catanzaro accusa, infatti, Calipo di avere, col suo ruolo politico ed amministrativo, favorito proprio l'endrine. Fra un paio di settimane, a metà maggio, lo ha annunciato il Vice Ministro delle Infrastrutture Cancelleri, apriranno i primi cantieri per il terzo megalotto della Statale 106, via libera dal Ministero. Bellissima notizia non solo per la Calabria, ma per tutto il Paese. Ha detto Cancelleri, a metà maggio avvieremo il cantiere. Si parte dai numerosi cantieri fermi a causa della burocrazia. Uno scontro, oggi per i riflessi, in questo caso purtroppo negativi, lo sono quasi sempre, dell'epidemia di coronavirus sull'economia, Francesca Traverso ha sentito tre noti ristoratori calabresi, i quali minacciano se le condizioni saranno queste, se il distanziamento ci porterà a ridurre di due terzi, di tre quarti, il numero dei posti a sedere, non potremo usare l'aria condizionata, e a momento queste sembrerebbero essere alcune delle condizioni che si porranno, non riapriremo neppure il primo giugno. L'appuntamento al primo giugno noi lo saltiamo, perché così non può andare. Noi non apriamo. Il messaggio è chiarissimo e arriva da un nutrito gruppo di ristoratori e proprietari di bar e locali che, conti alla mano, hanno deciso che il primo giugno non torneranno a riaprire. Troppe e troppo limitanti le prescrizioni indicate dal governo per rendere conveniente la riapertura delle rispettive attività, peraltro mantenendo lo stesso personale. Prima facevamo quasi 80 posti con le quattro sale. Adesso, vedendo le normative che ci sono, e rispettare tutte le leggi, una vendettina di posti. Con 20 posti non si riesce neanche con la famiglia. Dovrei prendere esempio di quel film Viene avanti cretino, Nino Banfi, che faceva tutto da solo. Così dobbiamo fare noi, tutto da solo. Non si riesce, minimamente. Ve lo dice un ristoratore che ha quasi 45 anni. Non è possibile che una famiglia che vive insieme, un nucleo di due genitori e due bambini, che devono portarmi l'autocertificazione, uno che vivono insieme e uno che non hanno nessun problema di contagio e via dicendo. O io sanifico il mio ristorante, faccio di tutto, anche due volte al giorno, mi arriva questo cliente asintomatico e tutto quello che ho fatto serve a zero. Poi gli dico, aspettate un attimo, devi andare al bagno? Mi dispiace, perché non andate prima a casa vostra e poi quando venite evitate il bagno? Perché se no ci devo mettere un collaboratore che tu entri e mi fa la sanificazione. Questa è proprio una cosa pratica. Adesso si parla di non usare ambienti con l'aria condizionata. Cioè dimmi, tu ristoratore, non puoi aprire. Tieni la saracinesca abbassata fino a quando questo è passato. Non puoi dirmi, sospendiamo un po', facciamo una percentuale di utenze. No, ma tu vieni, no, io sono in ginocchio e mi tiri pure una bastona dentro in testa. E no, e no. L'essito dunque secondo Ercole Villirillo, storico ristoratore di Crotone, è scontato. Fase 1 non apriamo, fase 2 resto a casa. La fase 3 mi fa piangere veramente. Tutto il mio personale, licenziato. E non sarà un danno da poco perché riguarderà centinaia di piccole imprese che di fatto reggono il tessuto economico della regione. Se si ferma l'economia, l'impresettina piccola, si ferma tutto il mondo. L'ospitalità nel mercato crotonese, come siamo in questo istante, è l'industria più forte e più potente che c'è. Se mettiamo tutte le nostre associazioni, i collaboratori che abbiamo, arriviamo a 10.000. Non c'è una singola ditta crotone che ha 10.000 impiegati. Non esiste. Poi c'è la parte più sentimentale, ma tutt'altro che secondaria, legata al significato più autentico e profondo della ristorazione. Come spiega Mario Mellino, rientrato in Calabria da qualche anno dopo una lunghissima esperienza negli Stati Uniti. Noi veramente vendiamo sogni, no? esperienza culinaria, emozioni soprattutto. La gente viene da noi perché festeggia in molte occasioni. Quindi anche questo componente è molto importante. Lavorare con queste restrizioni è semplicemente impossibile. E non possiamo da un giorno all'altro cambiare mestiere, no? Diventiamo ristoratori e poi diventiamo un punto di asporto. Perdiamo l'amore perché questo distacco dal cliente noi si vive con la testa, cervello, cuore e mano. Ma non usiamo il cuore perché è la bella di questo lavoro. Stare con i clienti, il problema che c'ha, gli occhi che le guardi, parli. La soddisfazione è questa. E allora cosa serve per poter ripartire? Le richieste del mondo della ristorazione che al nuovo DPCM ha reagito compatto sono chiarissime a partire da quelle illustrate da Salvatore Murano, storico ristoratore di Ciro Marina. Bisogna essere concreti, bisogna essere schietti e bisogna avere le idee molto chiare. Cioè noi vogliamo iniziare con la consapevolezza che l'aiuto che ci venga dato non è un prestito. Veramente abolire con un solo tocco di mano tutto quello che sono i carichi che abbiamo sostenuto prima che la pandemia cominciasse, controllare quali sono stati i nostri risultati dell'anno precedente e partire da quello. Riaprire con la consapevolezza che i nostri ristoranti possono essere rifrequentati. È vero con le dovute precauzioni, distanze, mascherine. Il futuro della nostra ristorazione è legata solo ed esclusivamente al buon senso. Chiedo al governo, sospensione dell'Enel, spazzatura, acqua, gas, cancellazione del limo, suolo pubblico, un fondo perduto adeguato. Che cosa ci aspettiamo? Una boccata d'aria. 10.000 euro a fondo perduto. Non che te le devo dare nel 2021 perché non posso, non perché non voglio. 10.000 euro ci permettono di aprire la chiave perché in questo istante è come riaprire un'attività dal punto di partenza. non importa quanti anni tu sei in questa attività, hai cancellato tutto. Azzeriamo questi costi che sono le utenze, sono l'Inps, i salari dei nostri collaboratori che sono parte della nostra famiglia, è un'estensione della nostra famiglia. Noi rappresentiamo la cittadinanza italiana e che cosa stiamo chiedendo? Solo di ripartire con dignità. E adesso è il momento di Io scelgo Calabria. Grazie a tutti. Vi embracingiate pausa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccoci con il nuovo appuntamento di Io Scelgo Calabria. Qual è il ragionamento che vogliamo sviluppare oggi? Crisi economica, non possiamo parlare d'altro. Ovviamente continuiamo a seguire con grande attenzione lo sforzo che le istituzioni, soprattutto il mondo della sanità, stanno facendo per affrontare l'emergenza umanitaria e sanitaria, che purtroppo dobbiamo dare per scontata, augurandoci che la scienza ci caverà d'impaccio, trovando un virus o trovando dei medicinali che possano risultare risolutivi. Detto questo dobbiamo, da operatori della comunicazione e da sostenitori di questo progetto Io Scelgo Calabria, cercare di ragionare sulle vie di uscita, sulle possibili strade da percorrere. Allora, una cosa vogliamo ripeterla con estrema chiarezza. L'origine del dramma economico-sociale della Calabria non è il Covid-19, non è che la Calabria prima del Covid-19 fosse la Svizzera, fosse la Baviera, fosse la Lombardia. La Calabria segnava già tantissimi ritardi, tantissimi difetti, tantissime piaghe da guarire, già prima dell'emergenza Covid-19. L'emergenza Covid-19 ha amplificato tutto ciò che già prima andava male. Del resto, guardate, cerchiamo di essere anche un po' obiettivi. Diciamo che super giù è tutto fermo dal 7 marzo, non siamo ancora al 7 maggio, quindi non sono passati due mesi. Certo, per delle imprese che devono chiudere le loro attività per due mesi, comunque le difficoltà ci sarebbero state. Ma evidentemente questi due mesi di chiusura, questi due mesi di stop, sono intervenuti, nella stragrande maggioranza dei casi, su una situazione già difficile. Perché guardate, un'azienda florida, un'azienda molto robusta, un'azienda che sul mercato era fortissima, non dovrebbe o non avrebbe dovuto avere difficoltà ad affrontare due mesi di stop e due mesi di chiusura. E' ovvio, ripeto, anche le aziende più grandi, lo vediamo nel Nord Italia, lo vediamo in Europa, hanno problemi con l'emergenza coronavirus. Non vogliamo essere assoluti quando esprimiamo questi giudizi. Vogliamo semplicemente sottolineare questo aspetto, che la Calabria era già in condizioni economico-sociali difficilissime. Il coronavirus che cosa ha fatto? Per un verso ha, come abbiamo detto, amplificato le questioni che già esistevano, per un altro ha fatto pensare molto di più, per un altro ha avuto l'effetto di fare aprire gli occhi in maniera generalizzata su una situazione, su una condizione che era già abbondantemente disperata. Del resto non avremmo avuto un ennesimo fenomeno di emigrazione di massa dalla Calabria verso il resto d'Italia, ma anche verso l'estero, addirittura verso l'Australia, se le condizioni strutturali dell'economia calabrese fossero state buone e positive. Quindi dobbiamo partire da questa consapevolezza, e devono partire da questa consapevolezza soprattutto i politici che ci governano, per immaginare soluzioni che non siano uguali al passato. Perché la storia della Calabria è una storia di una regione nel suo complesso governata male, non vogliamo fare di tutte le erbe un fascio, per carità, ma la Calabria è stata governata male. Se i fondi strutturali, illustri e illustri di utilizzazione, non sono stati sufficienti, cioè i fondi enormi che l'Unione Europea ha stanziato per la Calabria, non sono stati sufficienti per farci superare il gap che ci separa dal resto d'Italia e d'Europa, evidentemente non abbiamo saputo fare granché. Se i dati macroeconomici della Calabria, i dati fondamentali, la produzione eccetera, rimangono sempre negativi e relegano la Calabria agli ultimi posti delle graduatorie nazionali ed europee, una ragione ci sarà. Qui vogliamo dire quindi che dobbiamo uscire immediatamente da una logica emergenziale, perché sento, ascolto troppe dichiarazioni che vengono dai palazzi che guardano più al superamento e all'affrontare l'emergenza, cioè l'immediato alla contingenza, piuttosto che a fare un ragionamento complessivo su ciò che è stata la Calabria, su ciò che è stato determinato e amplificato dall'emergenza coronavirus e sui modi di intervenire. Noi siamo per la linea dei finanziamenti a fondo perduto per le aziende, affidando alle prefetture, alle procure, alla guardia di finanza, alla polizia, ai carabinieri il controllo affinché questo fondo perduto non diventi una possibilità di finanziamento di poteri criminali e di poteri deviati. Detto questo siamo certi che la Calabria abbia bisogno di un'iniezione immediata di fiducia, non abbia bisogno di burocrazia, non abbia bisogno l'economia calabrese dell'intermediazione di politica e burocrazia, abbia bisogno di fiducia e poi in una logica di mercato, in una logica liberale, non liberista, in una logica liberale di mercato avere la possibilità di rimettersi in modo, soprattutto guardando poi a riforme strutturali sul fronte del fisco, della previdenza, della burocrazia e soprattutto delle politiche creditizie perché dati i fondi nell'immediato, i finanziamenti a fondo perduto, occorre poi avere politiche creditizie che finalmente guardino alla situazione reale della Calabria. Continueremo a sviluppare questo ragionamento nei prossimi giorni, per oggi grazie per averci seguiti. Bene, per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di restare aggiornati grazie a tgcal24.it e vi auguro buona serata. Grazie a tutti.